Ed ora per il quinto match della serata, K1 Ruzzer 3x3 nella categoria dei 75 kg. All'angolo blu, dalla Croazia, del team Gorian, accompagnato dal maestro Gorian, Nicola Krenkovic. Un applauso, grazie. Nicola Krenkovic. E' un applauso, che è la Doria Boxing Team, accompagnato dal maestro Gorianone, e' un applauso, che è la Doria Boxing Team, a Gita di Schaffin, da Dori. A Gita di Schaffin, Bambari. E' una impresa a Bambari. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti